Roberto Anelli, consigliere regionale capogruppo della Lega al Pirellone, nei giorni scorsi il PD è tornato all'attacco sul punto nascita anche con un camion vela contro Lega e Forza Italia. Che cosa avete da dire a proposito? Allora, innanzitutto abbiamo due visioni completamente diverse. Loro puntano al punto nascita, io punto a mantenere il presidio ospedaliero di Piario e per mantenere il presidio ospedaliero di Piario non c'è alternativa che non quello di portare delle specializzazioni che possono servire al territorio, ma non solo al territorio della zona, ma a un territorio più ampio. Sul discorso punto nascita, se il PD ci teneva così tanto a questo punto nascita, quando c'è stato il primo diniego a Piario, quindi eravamo nel dicembre 2016, tutti si erano preoccupati di seguire questa pratica al Ministero tramite il Ministro Lorenzin, però poi a quanto sembra la risposta che è arrivata a fine 2017 nessuno sapeva niente, il che vuol dire che molto interessamento non c'è stato da parte del PD in questo anno. Io dico solo semplicemente una cosa, è ovvio che il punto nascita in qualunque struttura ospedaliera è importante, è altrettanto importante la sicurezza delle mamme e dei loro bambini, è intrettanto però importante il presidio ospedaliero. Io ritengo che con la proposta che l'assessore Gallera ha fatto insieme al direcente Locati sia una proposta intelligente, quindi portare delle specializzazioni che poi sindaci adesso è stato mandato a loro di dire se va bene o non va bene, però specializzazioni che non solo richiama la gente del posto e che serve la gente del posto, ma richiama la gente dell'intera provincia di Bergamo e anche sovra provinciale, perché quando si parla dei disturbi di alimentazione non dimentichiamo che una decina e decina, anzi scusate decina e decina di ragazzi soprattutto in età adolescenziale viene toccato e gli unici due centri oggi sono Milano e Brescia, poi non c'è nulla se no strutture private. Ritengo che dare una risposta in questo genere vuol dire richiamare gente, richiamare gente vuol dire far conoscere l'ospedale di Piario e apprezzare anche tutte quelle specializzazioni che questo ospedale ha. Si è parlato di urologia, per cui un'altra specializzazione, l'importante è riempire l'ospedale di specializzazioni, altrimenti il rischio sì è quello che il presidio possa chiudere, ma questo è un rischio che assolutamente è stato eliminato da parte dell'assessorato e quindi io mi auguro che dopo questa così strascici di polemiche fra un anno capiranno che probabilmente la scelta che abbiamo fatto è la scelta giusta.